Oggi ospite dei nostri studi di Telea1, un concittadino di Corigliano Rossano. Difficile dare una definizione univoca di Francesco Malavolta, che ringraziamo davvero moltissimo per aver accettato il nostro invito, nativo di Corigliano Calabro, iscritto all'Ordine dei giornalisti, ma soprattutto un fotoreporter apprezzato ormai in tutto il mondo. Un curriculum di esperienze, di studi, di ricerche, di attività, a dir poco svariato e multiforme. Francesco ha collaborato con la Comunità Europea, collabora per conto di agenzie di stampa internazionali, di ministeri, di organizzazioni internazionali, è un osservatore privilegiato di tutti quelli che sono i flussi migratori, perché svolge con grande competenza, con grande dedizione e professionalità, questo lavoro da oltre 20 anni. Francesco, perché in questi giorni a Corigliano e soprattutto se ci puoi dire qualche cosa, visto che tu stai seguendo molto attentamente fin dall'inizio il conflitto in Ucraina? Grazie Fabio per l'invito e grazie anche a te la Uno per l'invito. A Corigliano, perché naturalmente come tu hai detto sono nativo di Corigliano, anche se è andato via quasi 18 anni, quindi un bel po' di anni fa, quasi 30 anni fa, quindi sono tornato solo per le vacanze pasquale. Tornavo in realtà dalla Moldova, ultima tappa di questo lungo viaggio che mi ha portato in giro nei cinque paesi al confine con l'Ucraina, che sono la Polonia, la Slovacchia, l'Ungheria, la Romania e come ultima anche la stessa Moldava. A ritorno nel cercare di raccontare questa grossissima crisi umanitaria e naturalmente la conseguenza di quello che sta succedendo in Ucraina, della guerra in Ucraina. Francesco, dicevamo sei un osservatore privilegiato di tutti quelli che sono un po' i flussi migratori, ne hai seguito davvero tantissimi negli anni. Prima di addentrarci con lo specifico di questa terribile guerra che stiamo vivendo, se ci puoi dire, se noti analogie, punti di contatto e differenze fra tutte quelle tue esperienze che hai vissuto finora e quella odierna? Sicuramente la guerra in Ucraina ha accelerato la fuga, soprattutto all'inizio, ad oggi siamo quasi 5 milioni di persone andate via dall'Ucraina, oltre altri 5-6 milioni di sfollati interni. La Polonia è quel paese che ne ospita, comunque ne ha visto transitare di più, con quasi 2 milioni e 800 mila. Ultima la Moldova, ma se guardiamo anche la popolazione lì in Moldova, sui 400 mila è un numero abbastanza importante. L'analogia, quando differente è simile ovunque, non si può assolutamente pensare a profughi o rifugiati o persone in fuga di serie A o di serie B, come purtroppo in tanti hanno cercato di far passare. Chi scappa dalla guerra dell'Ucraina ha le stesse sembianze di chi scappa dalla guerra, dalle guerre in corso da decenni come in Siria, o siamo all'undicesimo anno, quasi al dodicesimo anno, o all'Afghanistan, o allo Yemen, o a tanti paesi del centro Africa. Quindi in pratica le storie che si raccolgono sono storie completamente simile e diverse allo stesso tempo, perché parliamo di persone con storie simili, simili per le motivazioni di cui abbiamo parlato, che poi non è solo la guerra, sono i cambiamenti climatici, sono la mancanza completamente di diritti umani, le violazioni, le violenze di ogni genere. Chi scappa naturalmente lo fa con dolore, quindi quando riguarda il mio aspetto di racconto non trovo nessuna differenza. Probabilmente se c'è qualcosa che ci fa vedere a chi arriva dall'Ucraina, è proprio la somiglianza a chi poi alla fine vive in Europa, sono cristiani magari, si è detto spessissimo, con gli occhi blu e biondi, questa cosa li fa vedere un po' più vicino a noi anche culturalmente, cosa che dovremmo sicuramente rivedere e guardare a chi scappa, a prescindere dalla provenienza, dalla fede, dalla cultura, comunque una persona che ha necessità di essere comunque messa al riparo. Francesco, io ho avuto modo di leggere tantissimo di te, perché a dispetto della tua proverbiale modesti e semplicità sei apprezzato davvero, come dicevamo, in tutto il mondo. In un mio articolo mi sono permesso di definirti messaggero di pace, perché io noto che non sei un fotografo, dicevamo tu, lasciami passare questo termine, immortali anche la bellezza della tragicità. Ecco, voglio farti questa domanda, bellezza e tragicità. Io noto che tu hai, correggimi se sbaglio, soprattutto una particolare predilezione in immortalare volti di bambini. I volti di bambini, soprattutto se si guarda a quella che è l'ultima crisi che ho seguito, quella che sto seguendo, quella degli ucraini, la percentuale è altissima. Il non fotografare i volti, anche fotografarli con la giusta attenzione, perché poi alla fine dietro un volto di un bambino fotografato ci sono delle autorizzazioni che vengono date dai genitori o la parte dei familiari. Non fotografarli o cercare di stare a tenere, naturalmente l'attenzione è massima quando si fotografa i vulnerabili, che sono bambini, disabili o persone che comunque hanno necessità di essere messe in protezione. Però il numero è altissimo. Basta pensare che sui 90.000 arrivati solo in Italia, degli ucraini, 35.000 sono minori. Cosa significa questo? Significa che non fotografarli e fra cento anni su libri di storia, se si fotografasse solo uomini o donne o anziani, cambierebbe la narrazione del racconto, non troveremo quei bambini, cioè non esisterebbe traccia dei bambini se non attraverso dei numeri. Visto che la fotografia è qualcosa di immediato, il fatto di documentarli è molto importante. Si fotografa un po' quella che sono anche poi alla fine, oltre ai bambini, anche in questi 45 giorni ho ritratto tantissime persone, per esempio anziane e disabili, che è un altro aspetto molto interessante e drammatico, quindi si scappa, perché se è vero che un bambino, oltre al fatto di adeguarsi velocemente all'interno di un altro paese, comunque e soprattutto se si scappa con parte della famiglia, perché questa è una guerra che ha visto soprattutto tantissime, da non andare via, perché gli uomini rimasti dall'altra parte a combattere, è molto più complicato per una persona disabile di una certa età. Infatti in Ucraina tantissimi disabili, tantissimi anziani, hanno preferito non lasciare la loro casa, non solo per una questione di legame, ma anche per una questione proprio di possibilità fisica e strutturale di andare via. Parlavamo dei bambini, erano i primi di marzo, se non erro, quanto una tua foto, ormai divenuta diciamo anche uno dei simboli di questa guerra, una foto appunto di alcuni passeggini, è balzata agli onori della cronaca nazionale ed internazionale. Se puoi dirci come è nata questa foto, dove è stata realizzata e soprattutto cosa ti ha colpito più di quell'immagine nitida che poi tu hai regalato a tutti noi? Quella foto è stata fatta tre giorni circa dopo lo scoppio della guerra, stiamo parlando del 2 di marzo, arrivato nella stazione di Presley, mi perdoneranno i polacchi per la pronuncia, ma il nome è abbastanza impronunciabile, al confine con l'Ucraina, siamo più o meno a 100 km da Liv, Leopoli, e arrivato in quella stazione dove arrivavano i treni, proprio da Liv, treni che poi naturalmente continuavano per Cracovia o comunque i passeggeri si sostavano lì per le prime necessità, ma poi prendere altri mezzi per arrivare non solo in altri paesi o città della Polonia, ma anche verso altri paesi della Comunità Europea. In quella foto c'è l'assenza delle persone, quella è una foto di passeggini lasciati là da donne per le mamme in arrivo dall'Ucraina con neonati e che naturalmente necessitavano un passeggino. Perché lasciare lì i passeggini? Perché soprattutto le donne vanno via senza passeggini dall'Ucraina? Perché molte di loro viaggiano in auto o con passaggi o con treni. Un passeggino andrebbe comunque a rallentare la corsa, soprattutto all'inizio dove comunque per via dell'inizio dei bombardamenti, quindi della paura di non capire esattamente quello che sta per succedere in Ucraina, le persone hanno portato quasi nulla, se non un piccolo zainetto, e i neonati in braccio. Questa cosa naturalmente ha sensibilizzato tantissimo le donne. Io quando sono arrivato in questa stazione ho visto questo angolo che poi alla fine intorno c'erano migliaia di persone, ma questo è un angolo privo di persone. E la cosa che naturalmente avevo già immaginato e capito me lo ha confermato una donna che ha lasciato un passeggino là nonostante avesse con sé un piccolo. Ho chiesto alla donna come mai questo gesto, ho detto che lei avrebbe potuto tranquillamente comprare un passeggino e mentre le mamme in arriva ne avevano bisogno. E non era un fattore economico, è un fattore proprio di cercare velocemente di fornirgli dell'assistenza. La foto poi naturalmente è stata diffusa velocemente in tutto il mondo, raccontando proprio questo senso di solidarietà. Sto a ripetere, ci tengo a ripetere, perché poi la foto ha cambiato di da scalina il tempo, non sono le donne polacche per le mamme ucraine, ma le donne che lasciano passeggini per le mamme in arrivo. Perché tra quelle mamme ci sono mamme anche non solo ucraine, di nazionale ucraine, e tra le donne che hanno portato il passeggino nella stazione ci sono anche donne non polacche. Un lungo viaggio, dicevamo, ha incontrato anche questa volta il dolore, tante emozioni, tante sensazioni. C'è una località di questo tuo percorso che ti ha colpito? Perché prima della registrazione ci accennavi, ci raccontavi tante storie, soprattutto in particolare in modo anche il senso di accoglienze, di generosità, di inclusione. Sicuramente l'ultima tappa di questi cinque paesi visitati, che è una tappa che si è conclusa poco più di una settimana fa in Moldova, che è un piccolo stato di poco più di due milioni e mezzo di abitanti, è anche lo stato più povero di tutta l'area geografica. Mediamente si vive tra i 150, 200, 300 euro al mese. Queste famiglie, naturalmente, sui 400.000 arrivati all'interno della Moldova, 300.000 hanno lasciato il paese per andare in altre località, mentre 100.000 circa sono ospitati, e la maggior parte sono ospitate proprio all'interno di abitazioni e di case. una generosità dove naturalmente non è a favore di telecamera, perché abbiamo cercato delle storie per raccontare questa generosità. La maggior parte di chi ospita ha chiesto di non essere ripreso, fotografata, perché per loro era un senso di dovere, di accoglienza, di empatia, verso il prossimo, un prossimo vicino, perché parliamo di confini, e che comunque c'era necessità di farlo. Quindi comunque ho trovato questo senso, questa generosità con telecamere spente, che non è che vale di più, ma molto importante rispetto a quando invece in realtà vedere, non voglio essere critico, sindaci con fascia tricolore, aspettare Pullman in arrivo con la bandiera, da favore di telecamera e gli stessi sindaci o gli stessi amministratori, mesi prima non vedevano l'ora di affondare il barcone o di chiudere le frontiere in Europa. Questa cosa dà molto fastidio, soprattutto se si vuole dare un senso positivo di accoglienza verso tutti, lo dicevamo all'inizio, senza guardare la provenienza, la religione, la cultura e il resto. Francesco, concludiamo questa nostra opportunità che ci hai dato appunto di incontrarti, di apprendere anche, come dicevamo, le tue sensazioni, il tuo racconto. Sappiamo che sei in partenza nei prossimi giorni, prossime esperienze, soprattutto se c'è un messaggio che vuoi inviare, non soltanto alla tua comunità nativa, tutti quanti noi, proprio alla luce del tuo bagaglio di idee e di esperienze. Beh, sicuramente adesso c'è un ritorno a Roma, dove cercherò di riordinare anche esattamente le mie idee, perché naturalmente dopo così tanti giorni passati nei cinque confini e con una guerra che continua e continua, adesso a far uscire esattamente le conseguenze della guerra, perché abbiamo visto tutti i corpi, i morti, la distruzione delle città, un numero che attualmente non è ancora definitivo e non sarà definitivo quando riguarda soprattutto la parte della tragedia dei morti. Sicuramente c'è necessità di andare di nuovo sul confine a raccontare non solo le persone, perché il numero è rallentato delle persone in arrivo dall'Ucraina, ma anche le persone che stanno cercando di ritornare in Ucraina, sono tantissimi, infatti quelli che stanno facendo la rotta al contrario, sicuramente numeri abbastanza piccoli, ma anche questo comunque va raccontato, quindi mi risposterò al confine, non so se Polonia o ripartire dall'ultima, che è la Moldova, l'ultimo paese visitato, per cercare di raccontare queste storie e poi capire esattamente quello che si è. Nello stesso tempo, continuo a portare avanti dei progetti lavorativi, che sono per esempio chi scappa verso le Canarie, è un lavoro che ho iniziato già a novembre, che ad oggi sono negli ultimi due anni 50.000 persone scappate verso le Canarie, non ne parla nessuno, e il numero incredibile di morti, si calcola più o meno tra i 3.000 e i 7.000 morti, il numero è abbastanza approssimativo, perché essendo che il viaggio dura anche 8-9 giorni, dipende da quale parte della costa africana si parte, e poi ci sono altre emergenze dimenticate, all'interno dei Balcani, le isole in Grecia, il mar Mediterraneo con gli arrivi che continuano comunque verso l'Italia, quindi tantissime storie di persone che scappano, che hanno necessità di scappare, e hanno soprattutto una necessità di essere messe in sicurezza. E quello che voglio dire ai miei concittadini è sicuramente di non stancarsi, non solo di quell'immagine, di non stancarsi mai di dare ospitalità, di far qualcosa, e non di vivere un'empatia cronometrata cronometrata nel tempo in base a quello che succede, mi si apre il cuore, ma bastano pochi giorni un po' per, anche a volte per protezione, io non lo metto in dubbio, che vedere quel tipo di immagine tutti i giorni fa male, stancante, però di non girarsi dall'altra parte, quindi di essere comunque solidare, e di farlo a prescindere dalla provenienza. Francesco, noi ti ringraziamo tantissimo, non soltanto per averci concesso, per averci dato questa opportunità, ma soprattutto ti siamo grati ed onorati di avere appunto Francesco Malavolta come concittadino di Corigliano Rossano, perché con la sua testimonianza tangibile racconta appunto il dolore, ma soprattutto lo fa, come abbiamo detto, anche mettendoci soprattutto il cuore, quindi non un testimone avulso appunto della realtà, freddo, distaccato, algido, ma, e chiudo con il termine che tu hai operato, sei un professionista dell'empatia per quello che mi riguarda, perché davvero comunichi davvero tanto. Grazie mille a Francesco Malavolta e grazie a tutti voi. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.